benvenuti in questa guida top 7 gioco per cani di consiglio pro tra questi sette abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative ma partiamo subito al settimo posto troviamo comius giochi materiale non tossico realizzato in resistente tpr sicuro non tossico resistente e duraturo per il vostro animal vediamo la nostra valutazione tre stelle nella qualità generale nell'offerta assegniamo tre stelle con caratteristiche al top gamma eccezionale il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 73 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo tuse giochi giocattoli per cuccioli ideali per i vostri cani i giocattoli per cani tusei includono 10 giocattoli a ciambella cigolanti il cui aspetto ecco cosa pensiamo 4 stelle nella qualità generale favorevole l'offerta nelle caratteristiche diamo tre stelle in definitiva accettabile il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 80 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo giochi cane corda tenere il cane lontano dalla solitudine i set di giocattoli possono rassodare l'ansia del tuo cane rafforzare l'intimit con il suo proprietario vediamo la nostra valutazione la qualità generale raggiunge tre stelle 5 stelle per la promo sconto con particolari caratteristiche in definitiva è davvero buono il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 83 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare tusei giochi grande giocattolo per cani tusei giochi per cani include tre giocattoli di volpe squittenti che sono benefici per la salute fisica e vediamo il nostro parere qualità generale davvero eccellente ottimo momento per acquistare per le funzionalità raggiunge 4 stelle eccezionale il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 83 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo ace 2 ace giochi ideale per cani di piccola taglia e cuccioli questo set di giocattoli da mordere molto adatto per cani di piccola taglia e cuccioli s vediamo la nostra opinione un eccezionale qualità generale interessante l'offerta un'estrema quantità di funzioni nel rapporto qualità prezzo raggiunge 3 stelle il nostro punteggio generale è di 85 punti trovi ulteriori informazioni nel link in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo trixie dog robusto adatto a tutti i cani stimola la mente mantiene i cani attivi pia lungo aiuta con la concentrazione facile da usare tuttavia ecco la nostra valutazione un'eccezionale qualità generale 5 stelle per la promo sconto 5 stelle per le caratteristiche ampiamente sopra la media il rapporto qualità prezzo il nostro punteggio generale è di 90 punti trovi informazioni nel link in descrizione prima posizione vince la classifica via h a n v e r giochi sicurezza prima i nostri giocattoli per cani sono realizzati al 100 per cento in gomma naturale che dura flessibile e non tossica il nylon ecco il nostro parere 5 stelle nella qualità generale imbattibile l'offerta a prezzo scontato un'estrema quantità di funzioni in definitiva accettabile il rapporto qualità prezzo il punteggio è di 90 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace iscriverti al canale